Non passa, no, non passa come diceva una certa canzone di Raff, il battito animale, no, non passa, non passa più, ben ritrovati come state amiche e amici, un benvenuto ai nuovi, mi raccomando iscrivetevi qui sul logo di Milanello, siete tifosi rossoneri, sperate in un passaggio del turno oggi, iscrivetevi, chi non si iscrive ti fa Napoli, ragazzi, quindi mi raccomando fate la vostra scelta, un grazie ai vecchi iscritti, un benvenuto ai nuovi, mi raccomando, commentate numerosi qui sotto con il vostro stato d'animo e punto di vista, stato d'animo e punto di vista, prima di entrare nel dettaglio vi consiglio anche di scaricare gratuitamente l'app di OneFootball che potete consultare oggi, anche stasera durante la partita, è gratuita, è sponsor del Milan, si possono vedere gli highlights gratuitamente del Milan, tutte le notizie solo di Milan, esclusive, calciomercato, statistiche, si può personalizzare con solo notizie di Milan, è molto ben fatta, è l'app numero uno, mi raccomando scaricatela qui sotto, vi metto il link gratuita, se volete andare a scaricare e tornare io vi aspetto, non scappo, anche perché non passa, no, non passa, finalmente, io dico anche finalmente che siamo arrivati a questa partita e oggi sapremo, sarà una notte particolare per chi la vive con grande passione, trasporto e amore, c'è magari chi metabolizza, personalmente c'è sempre tanta adrenalina, io poi sarò in diretta fino a luna di notte a QSVS e quindi ci sarà un'ulteriore adrenalina, poi speriamo di tornare di, col sorriso ovviamente, la commenterò a QSVS e speriamo bene, è un peccato, è un peccato però tutto quello che sta accadendo, che sta ancora accadendo, quello che ci stiamo trascinando dietro, perché era una partita di calcio, è una partita di calcio, il più bel panorama calcistico europeo, la Champions League, la musichetta, sembra che per qualcuno stia arrivando tutto, tranne che una partita di calcio è un gran peccato, è un peccato perché è stata preparata in una certa maniera e ancora adesso stanno accadendo cose davvero imbarazzanti, diciamo subito che il peccato originale, converrete con me, è quella di creazione di Spalletti, che dopo la gara della scorsa settimana persa, se la prende con l'arbitro, ignorando rigore su Krunic, buttandola in cacciara, dando in pasto ai propri tifosi e all'ambiente, al popolo napoletano, una polemica che qualcuno non vedeva l'ora di cavalcare. Quello poi ha portato a una serie di frasi, di creazioni, di provocazioni. Ultima, una ieri, che io tanto su Twitter l'ho citata scrivendo, ma siamo su scherzi a parte, con Juan Jesus che ha detto il Milan ha giocato l'andata a fare polemica. Ragazzi, io dico che però per presentarsi e dire seriamente una cosa ci vuole, secondo me, anche uno studio, ci vuole una preparazione, cioè anche un po' di pelo sullo stomaco, anche se non è una cosa serissima. Cioè, arrivare a dire il Milan l'ha buttata sulla polemica all'andata, vuol dire che tu ti puoi presentare e direla qualunque. Davvero, adesso vale tutto, vale tutto. Il Milan ha giocato sulle polemiche. Noi dobbiamo essere più furbi. C'è come se la trappola l'avesse messa al Milan e il Napoli invece da, così, ambiente trasparente, ingenuo, ha rischiato, c'è cascato l'andata. Ma di che cosa stiamo parlando? Ripeto, questa felpe verde, si può raccontare che è rossa? Qualcuno dovrebbe alzare un dittino e dire, guarda, ci stai prendendo per i fondelli. Juan Jesus che si accoda alla strategia comunicativa scelta dal club o da Spalletti, di fatto introdotta una settimana fa da Spalletti, con tutto l'ambiente che dice, sì, è vero, non vedono l'ora. No, perché non c'è la cultura sportiva del saper perdere anche. Addirittura, poi, un giorno sì, l'altro pure, dal mattino, Napoli, viene scritto che l'arbitro Kovacs viene fermato. Oggi viene fermato per tutta la stagione. Rischia di essere fermato per tutta la stagione. Cosa che, scusate, rispetto per i colleghi, ma io leggo soltanto lì. E mi faccio due domande e mi do anche due risposte. E ho anche un sospetto, cioè, mi sembra che tutto faccia parte di una strategia globale, o lì, inclusive, per preparare questa gara e buttarla sulla rissa. Spalletti che, non contento di quella dichiarazione, sabato, ha detto tutto il popolo, tutto il mondo ha dato ragione a noi, tranne i milanisti, facendo passare i milanisti per quattro sfigati, che vivono nel loro mondo e che sono scorretti, e che non capiscono nulla, o meglio, dicono il falso per tirare acqua al proprio mulino. Io, sinceramente, l'unico che ha dato ragione a Spalletti è stato Cassano. Ecco, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Fatti una domanda e datti anche una risposta, caro Spalletti, no? Ma è un peccato perché poi l'ambiente è diventato tossico, si è inquinato progressivamente il tutto per una partita di calcio. Non voglio tornare, perché ieri ne ho già parlato in un video, sugli insulti beceri, non neanche di più che beceri, a Te Fernandez e a suo figlio, suo piccolo figlio di un anno, un anno, perché non rappresentano la tifoseria del Napoli. La maggior parte di tifoseria del Napoli ha preso distanze rispetto a quelle cose di bassissimo livello. Però tutto è legato, tutto... C'è sempre qualcosa, c'è del veleno, c'è della polemica. E Spalletti, ieri ancora, che cosa dice? Il Milan avrà il pensiero di Osimèni. Ora, ragazzi, voi ditemi, quando un club di stile, un club non di provincia, con tutto rispetto per la provincia, dove comunque c'è delle bellissime realtà, un grande club che sta per vincere lo Scudetto, la butta sempre così sulla provocazione. Io non ho mai sentito dire da Pioli, da Ancelotti, da Zaccheroni, a quale mandiamo un abbraccio, pensando ai miei nostri, e loro avranno il pensiero del nostro attaccante. No. Una regola non scritta, non si parla mai di queste cose. Cioè, tu parla dei tuoi, non parla degli altri. Ma non dire mai, loro temono questo giocatore. Cioè, siamo alla prima e alla seconda categoria. Con il rispetto per la prima e la seconda categoria, rispetto in cui, ripeto, in cui ci si diverte anche, e si gioca, si esprime l'agonismo. Ma qui siamo davvero a livelli bassi, stiamo scavando. Cioè, quindi, è lui a mettere pressione al Milan perché dovranno temere Ossimèni e hanno il pensiero di Ossimèni. Lo sa lui. Mi sembra di un provincialismo estremo. Un provincialismo è la parola migliore. Non sapere accettare la sconfitta dell'andata e buttarla sul fattore arbitrale quando non c'è un minimo fondamento, non c'è un elemento che ti può dar ragione. Se mai è tutto l'opposto e faresti meglio a startene zitto. una mancanza di stile perché continuano a parlare. Ecco, un'altra cosa che ha detto Juan Jesus, loro hanno parlato troppo. Loro? Loro? Loro il Milan? Pioli ha detto nulla. Dei rigori crunici ha parlato nessuno. Maldini ha detto nulla. Ha detto, per me si è parlato già troppo di quell'altra vicenda. Gli giocatori ha detto nulla. Loro hanno parlato troppo. Uno si deve guardare allo specchio, avere un minimo di quella roba lì dentro, no? Cioè, altrimenti mettete i sottotitoli a una sceneggiatura e la prendiamo per quello che è. Una. Provincialismo estremo, lo dico, nel non saper stare con garbo e stile sul palcoscenico più importante d'Europa, la Champions League. Così facendo dimostrano che sono lì, non dico per caso, perché comunque hanno fatto un percorso straordinario, ma che per loro è l'eccezione. Poi, non dico che devono avere tutti la tradizione del Milan, lo stile del Milan, l'abitudine come club a fare certe partite, ma neanche l'opposto. c'è qui sembra quello che faccio un esempio diverso, non ha mai avuto soldi, vince, gratta e vinci, e poi va in giro con cose pacchiane per far vedere o vince. Capite? È quello che non è mai stato su, che ne so, a una cena di gala, arriva e viene con la canotta per farsi vedere. Scusate dei paragoni che magari non ci stanno, ma mi vengono così. Bisogna saperci stare su certi palcoscenici. Tutto quello che c'è stato obiettivamente ha rovinato un po' l'immagine anche di questa sfida, soprattutto del loro club, ecco, per quanto mi riguarda. Un provincialismo estremo che poi ha portato i tifosi a dire e fare certe cose, social, eccetera, eccetera, ha portato i loro tifosi fino a notte fonda ad andare sotto l'hotel del Milan per fare casino. E' una cosa d'altri tempi, io ricordo, ero andato a vedere, non ricordo gli anni perché sugli anni faccio fatica, quando andiamo a Napoli, ci giochiamo la Champions, perdiamo, segniamo, eccetera, eccetera, forse 3-1 e la sera prima, io ero lì come inviato, la sera prima sotto l'hotel del Milan erano lì con pentole, cose a far casino. Cioè, ragazzi, non si va mai avanti. Ma qui siamo in Europa. i fuochi d'artificio di notte, vi rendete conto? Con le forze dell'ordine che passano non dicono nulla, comunque lì è disturbo della quiete, tamburi, clacson di notte, cioè, ma che cos'è? Cioè, sembravi di vedere la tribuna di una partita di provincia, ma neanche di provincia, ma non succedono neanche queste cose. che roba brutta, cioè, è una roba imbarazzante, davvero imbarazzante, che crea imbarazzo anche al Milan stesso, secondo me. Cioè, io me l'immagino, Maldini, che vede certe scene, poi hanno pure la camera insonorizzata. Diciamo che da dentro Hotel risulta, abbiano sentito un po' di casino intorno a luna di notte. Cioè, arrivi a questi mezzi qui per... Boh, davvero una cosa brutta, imbarazzante, imbarazzante forse la definizione che più è azzeccata. a livello d'Europa una cosa del genere sinceramente non la ricordo. L'hanno buttata su quell'aspetto lì quando, secondo me, hanno mezzi tecnici per poter fare il passaggio del turno anche senza buttarla così sulla tensione. No, sono dispiaciuto perché comunque dicevo fino a un mese fa sono contento se Napoli vince lo Scudetto meritato e resta meritato non che cambio però insomma non lo vinco da tanti anni dico che era una squadra simpatica però era una bella storia. Sinceramente in queste due o tre settimane il mio sentimento è cambiato clamorosamente ci ho visto sentito letto toccato con mano cose che mamma mia ragazzi davvero fatico anche a trovare le parole devo pesarle dico che meriterebbero stasera in campo sul campo una bella lezione per tutto quello che hanno detto per tutto quello che hanno fatto per quante volte l'hanno detto per quanto continuano a farlo meriterebbero una gran bella lezione loro hanno parato troppo loro poi io mi sono scrisciottato tutto nel caso ragazzi ditemi la vostra con civiltà e rispetto e ripeto ho visto un provincialismo che mai mi sarei aspettato pur con una tradizione diversa rispetto alla nostra commentate numerosi qui sotto iscrivetevi qui mi raccomando attivate la campagna la siete dei cuori rossoneri sperate nella vittoria dei Milan speriamo boom di iscrizioni oggi mi raccomando e lasciate un like vi rimando al video di questa mattina in cui vi ho parlato anche di mercato di un paio di notizie importanti per distrarci un po' se vi va ora è sovra e pressione se vi va scaricate l'app di OneFootball qui sotto c'è il link ci vediamo più tardi magari pre partita forza ragazzi forza Milan oggi più che mai domani ancora di più forza Milan ragazzi grazie